L'augurio è quello di un sereno e profico anno di lavoro per tutti, ovviamente. L'auspicio è quello che si possa pervenire al più presto ad una terza sezione e che noi riusciamo sempre ad offrire una risposta adeguata alla domanda di giustizia dei cittadini, nell'interesse ovviamente di tutta la collettività, quindi non soltanto nell'interesse individuale delle parti ma proprio dell'interesse di tutta la collettività locale e territoriale, data anche la funzione del giudice amministrativo che è quella di incidere con le sue decisioni sulle situazioni che riguardano l'esercizio del pubblico potere. Nel celebrare il nuovo anno giudiziario ricordando che la sezione staccata di Salerno del Tar Campania quest'anno compie 40 anni, l'augurio del presidente del Tar di Largo Sant'Omaso d'Aquino Leonardo Pasanisi è quello di aprire presto anche la terza sezione del Tribunale Amministrativo di Salerno, così questa mattina in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario che fa registrare l'arrivo di nuovi magistrati. Data la varietà e la rilevanza del contenzioso che caratterizza il Tar di Salerno soprattutto in materia di appalti, edilizia ed urbanistica, l'obiettivo è quello che venga istituito al più presto una terza sezione con l'assegnazione dei altri 5-6 magistrati per poter equilibrare e meglio bilanciare il carico di lavoro creando eventualmente anche due sezioni specializzate ed una terza con competenza residuale. Accanto alla carenza cronica di organico il presidente Pasanisi ha segnalato che la sede di Salerno è fisiologicamente una sede di passaggio poiché è vicina alle sedi di Napoli e Roma, ciò significa che in breve tempo il Tar di Salerno si trova ad affrontare il ricambi di organico. Per quanto concerne i dati statistici sulle attività dell'anno 2019 risultano pendenti presso il Tar Campania sezione staccata di Salerno 6.330 ricorsi di cui 1.796 ultra quinquennali. Nonostante la grave carenza dell'organico si è registrata comunque una riduzione di 784 ricorsi pari all'11,02 dell'arretrato. Per quantità di lavoro complessivo Salerno si colloca al sesto posto in Italia dopo le sedi di Roma, Napoli e Milano. Il Tar di Salerno da questo punto di vista si inserisce e si colloca senz'altro nei primi posti degli uffici giudiziari italiani, degli uffici giudiziari amministrativi. Come quantità e qualità di contenzioso il Tar di Salerno in base alle statistiche si colloca al sesto posto addirittura nell'ambito del panorama degli uffici giudiziari amministrativi italiani. Immediatamente dopo fori importanti e prestigiosi come quelli di Roma, Napoli, Milano, Palermo e Catania. Subito dopo questi uffici giudiziari viene Salerno. Il problema vero di Salerno però è la carenza dell'organico magistratuale. Abbiamo un livello di organico, quindi un numero di magistrati che è assolutamente insufficiente per far fronte a questa enorme mole di lavoro. Purtroppo questa è la verità. Le responsabilità a mio parere sono del nostro organo di autogoverno, cioè il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, che ha il potere di disporre le assegnazioni e i trasferimenti dei magistrati presso tutte le sedi. Adesso ultimamente c'è stato dal 15 febbraio un piccolo sensibile aumento dell'organico, quindi da 7 magistrati del 2019 siamo passati a 10, dal 15 febbraio. Ma 10 rimane sempre un numero insufficiente. Restano tanti ricorsi, a volte anche inutilmente si ricorre alla giustizia amministrativa. Questo è un altro discorso che poi fa parte della cultura, della litigiosità, degli aspetti del territorio, delle abitudini. Questo è un altro discorso di politica. A volte il ricorso al TAR serve anche come spauracchio nei confronti delle amministrazioni, come strumento di pressione per poter ottenere determinati risultati. Ma questo ovviamente è un altro discorso. Noi comunque come giustizia amministrativa dobbiamo in ogni caso far fronte alla richiesta di giustizia che ci viene effettuata.